Musica Bella a tutti ragazzi sono qui oggi con un nuovo video per farvi vedere dove trovare la mazza da golf Dovete andare qua nel campo da golf Andate durante il giorno così siete sicuri di trovare qualcuno Vedete questo qua? E basta solo picchiarlo Vabbè in questo caso mi ha inculato però vabbè Vabbè intanto la mazza da golf si è inculata a Gibo Però vabbè io ce l'ho già E funziona anche troppo bene contro Gibo Come potete vedere è sciatta con un colpo Se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentate e iscrivetevi Ciao 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 Ciao